Oggi vi parlo di un romanzo fantasy italiano che in realtà non ha certo bisogno delle mie parole per essere conosciuto in quanto ha più di 80 recensioni su Amazon, è stato sicuramente uno dei titoli più venduti dell'ultimo anno, forse anche di qualche mese in più ed è una produzione indie o comunque semi-indipendente e ciò lo rende un successo ancora maggiore perché ha saputo imporsi, pur restando fuori dal circuito delle grandi librerie, della grande distribuzione, ha saputo imporsi tra gli appassionati di fantasy sto parlando di Vilupera di cui vi mostro la copertina nuova tra l'altro perché io ho la versione ebook con la copertina vecchia però questa copertina è appena uscita nuova per la riedizione, la ristampa cartacea e devo dire che è una copertina ottima a me piaceva anche quella precedente, questa è ancora più bella e io l'ho letto su Kindle, me la mostro su un altro cellulare semplicemente per apprezzare i colori della grafica di copertina Vilupera appunto del duo Mazza Sensolini che sono poi gli autori che stanno dietro il progetto di ignoranza eroica che magari a qualcuno può non piacere, so che a qualcuno non piace per varie ragioni che non staremmo a ripetere perché non voglio fare polemiche, non voglio entrare in nessuna polemica però è sicuramente un'iniziativa ignoranza eroica di scrittura fantasy e affini che ha riscosso e riscuote molto successo tanto che ha generato cugini, fratelli e parenti vari e tuttora sta contribuendo alla nascita per esempio di un gioco di ruolo italiano e ha molte altre cose tra cui il seguito di Vilupera che sarà Mattanza credo che se non sbaglio, adesso ve lo dico in diretta, leggendo proprio la copertina no anzi leggendo il post da cui ho tratto questa copertina nella nuova edizione cartacea di Vilupera ci sarà un estratto di Mattanza che è poi il seguito di Vilupera stessa insomma che non so quando uscirà, credo mai ce lo diranno gli autori se vorranno intervenire in questo post allora, Vilupera è un grim dark fantasy il grim dark fantasy per chi non lo sapesse è quella sottocategoria del fantasy ovviamente che contempla atmosfere, personaggi molto cupi, violenza, sangue, morte, distruzione insomma tutto quello che non è Tolkieniano che richiama piuttosto l'opera di Martin anche se poi ha avuto un'affermazione il grim dark nello suo specifico con altri autori però diciamo che si è iniziato a parlare di grim dark in Italia in riferimento all'opera di Martin, le cronache del ghiaccio del fuoco, il trono di spada insomma per chi conoscesse solo la serie tv tuttavia Vilupera si distingue dalle opere di importazione perché è un'opera italianissima un'opera in cui si rispira italianità è un'opera ambientata in un'Italia distorta, cupa corrotta direi nello spirito, nella mente, nel territorio financo ma che è un'Italia facilmente distinguibile dai nomi storpiati come la penumbria il colle che sarebbe Roma e tante altre località che sono le trasposizioni di questa ambientazione molto cupa e molto corrotta appunto, mi ripeto ma sono le trasposizioni di un'Italia quasi rinascimentale come tecnologia diciamo, come livello tecnologico quindi non siamo nel basso medioevo, non siamo nel medioevo siamo quasi a ridosso del rinascimento è un'opera che non è per tutti perché è un'opera appunto molto grim dark con personaggi molto cattivi o comunque poco luminosi poco di luminoso in questo romanzo e il suo bello, per chi ama questo genere di atmosfere è che è molto riuscito nel compito di essere un'opera profondamente tenebrosa ma anche ricca di cupa ironia, di dark humor che trasuda soprattutto nella citazione di personaggi o comunque negli easter egg di personaggi noti che vengono trasposti anche solo come Kamei nel romanzo stesso e per esempio nell'uso di inflessioni dialettali romagnole i due autori sono romagnoli se non sbaglio, senso linee di sicuro sì ma credo anche mazza e c'è una forte componente di romagnolità chiamiamola così nel romanzo che ne dà una caratterizzazione ancora più nostrana senza però essere limitante per chi non conosce per esempio il detto del maniore perché ci sono solo alcune citazioni, alcune frasi in questo dialetto e quindi è un'opera aperta a tutti anche se ripeto è un'opera prettamente di ambientazione e pensata, scritta per gli italiani a me è piaciuto molto la costruzione dello stile anche qui forse non è per tutti perché è uno stile molto particolare non permette distrazioni leggendolo perché è uno stile che va assorbito praticamente parola per parola frase per frase a tratti può sembrare non scorrevole ma in realtà ha una sua poetica nella costruzione delle descrizioni così come delle azioni e nella costruzione anche di tutto questo corollario nel world building della penumbria e comunque dell'Italia della viluppera che va dalla fauna ci sono animali che sono un mix tra per esempio corvi e ragni trattori e tarantole che fanno molto da contorno non sono quasi mai centrali nella storia nella trama nell'intreccio di vilupera ma sono degli oggetti degli elementi scusate non degli oggetti degli elementi di world building molto apprezzabili che danno il senso del lavoro che c'è stato dietro a quello che quindi è un romanzo violento rozzo a volte apparentemente rozzo scusate apparentemente rozzo molto cupo ma che è un romanzo ben costruito ripeto probabilmente non è per tutti se vi piace il fantasy epico se vi piacciono gli eroi tolkeniani vi piace il fantasy della shannara questo fantasy magari non riuscirete nemmeno a finirlo non riuscirete nemmeno a superare i primi capitoli viceversa io darei una chance a vilupera perché comunque è un'ottima prova di come si può costruire un fantasy diverso molto territoriale e che sia grimdark senza scimmiotare altri lavori senza scimmiotare scrittori anglosassoni e senza utilizzare ambientazioni create ex novo ma modificando e deformando ambientazioni storiche esistenti e conformandole a una storia appunto di fantasia insomma io vi consiglio di leggerlo vi lascio il link in descrizione poi scegliete voi se comprare ebook cartaceo e spero di leggere presto un seguito il seguito mattanza che si rivela si preannuncia anzi non si rivela si preannuncia altrettanto interessante e poi chiudo con una citazione del romanzo e solo chi l'ha letto lo potrà capire perché per il resto mi prenderanno per matti la citazione è questa baciamo le lame alla prossima non si rivela non si rivela Grazie.